Ed eccoci qua. Matteo, dove sei Matteo? Sofia. Niente, io volevo ringraziare Bologna, un applauso a Bologna, ringraziare voi e ringraziare te, Hansi e Neil. Io ringrazio te, Matteo Miglio, che è intervenuto per presentare la parte spettacola. Io volevo ringraziare in particolar modo Vincenzo Branà. Certo, grazie. Tutto il comitato Pride sempre ringraziamo, facciamo sentire un po' di calore a tutte le persone del comitato Pride, a tutti i volontari, a chiunque ci mette il cuore. Ma soprattutto fatevi un grandissimo applauso perché siete ancora qua dopo tantissime ore e questo è stato un bellissimo Bologna Pride 2016 sotto le due torri. Ma soprattutto, se tutto questo è stato possibile, è stato grazie a un team di fonici, a un team di tecnici che hanno sostenuto, che hanno lavorato per noi, che si sono prese le nostre pazzie e follie e che sono stati veramente molto pazienti. Quindi anche un ultimo applauso ai fonici e noi vi salutiamo. Questo era il Bologna Pride. Questa sera continuiamo, ricordiamoci, sono tre parti fighissime a Bologna. Ciao ragazzi, un grandissimo amore a tutti quanti voi. Siete stupendi. Fatemi sentire. Posso fare un marchettone. Martedì 28, compleanno del Cassero di Bologna a casa nostra. Ci sarà un evento importante. Torna Miss Alternative e vi aspetto tutti per l'evento bolognese per eccellenza. Grazie. Ciao Bologna. Ciao Bologna.